Don Massimo Mapelli che è della Caritas Ambrosiana e voglio ringraziare davvero tantissimo per essere con noi, per il contributo che ci darà e dopo Don Massimo segue Goffredo Bettini. Grazie. Le vive con preoccupazione tutti i giorni e prova a riportarle. Prima Gianni accennava alle mense dove vengono le persone, lo sapete tutti, è aumentato il numero di persone non solo che vengono alle mense ma che vengono a chiedere il pacco alimentare. Ci stiamo ingegnando tutti a inventare formule nuove da questo punto di vista che rispettino anche la dignità di chi non ha mai dovuto mettersi in fila prima di adesso sostanzialmente. Però a partire da questa esperienza ho provato a ragionare attorno ad alcune parole. La prima è ascolto, l'umiltà di ascoltare. Guardate, chi sta sulla strada come noi è quello che ha più fretta di tutti. Quando noi siamo lì con le persone già distrutte noi abbiamo fretta, ce l'abbiamo più di tutti. Però bisogna ascoltare. Bisogna avere la pazienza di ascoltare. Perché mica che qualcuno che è già caduto giù adesso soccomba anche sotto le mazzate della fretta. Perché guardate che chi fa il nostro mestiere le persone che prendono i colpi le vede. Le vede. Ci manca solo che qualcuno soccomba sotto i colpi della troppa fretta e del non ascolto. Ascoltare. Io sono stato ordinato prete del Cardinal Martini che diceva che uno ascolta, se stima. Se io stimo l'altro e penso che ha qualcosa da dirmi e da darmi, allora ascolto. Seconda parola è il lavoro. Noi col fondo Famiglia Lavoro, inventato dal Cardinal Tettamazzi che ancora oggi va avanti a Milano, quante persone senza lavoro incrociamo tutti i giorni i nostri volontari. Quanti, quanti, quanti. Quanta fatica. Però abbiamo provato anche delle iniziative. Io nel mio piccolissimo, in questi ultimi quattro anni, ho messo su una cooperativa, diamo lavoro a trenta persone. Mi faccio una domanda. Se io, che non sono nessuno, sono riuscito a fare questa cosa qui piccolissima, ma che ha trenta persone e dà lo stipendio. Ma è possibile che non si possano incrociare le competenze, le cose, per poter mettere insieme una ripresa strutturale delle politiche industriali, per poter mettere insieme i ruoli di tutti, dall'Europa che deve fare il ruolo di arbitro, di compensazione, a tutti, perché si possa davvero andare al lavoro. Gli 80 euro sono una cosa buona, noi che incontriamo la gente sulla strada, lo vediamo. Però mi vengono in mente anche le parole di un mio collaboratore che per anni è stato in Perù a lavorare. Tornato settimana scorsa e mi ha detto, ho letto i giornali, mi sembra che siete tutti contenti per 80 euro in Italia. Ho perso qualche pezzo, mi hai perso tanti, però va bene questo qui, però bisogna ritornare a pensare al lavoro. E guardate, con me lavorano degli educatori a quali chiedo di prendersi cura del futuro dei giovani e dei ragazzi. Ma io posso chiedere a un giovane che si prenda cura del futuro dei giovani e dei ragazzi che hanno più bisogno, se non riesco a dare garanzie al suo di futuro. Come fa quel giovane lì che è precario a vita a occuparsi del futuro degli altri giovani? E' difficile, è dura. E noi che facciamo questo lavoro non vorremmo diventare anche noi un piccolo centro di precariato che mette in difficoltà. I giovani che lavorano con me sono straordinari, si fanno carico di tanti drammi, di tanti ragazzi e giovani. Ma c'è bisogno che quei giovani che lavorano con noi abbiano le garanzie del loro futuro, se no non si possono occupare del futuro degli altri. Un'altra parola è casa. Quanti sfratti, quanti sfratti, quante persone con lo sfratto esecutivo, con forza pubblica eccetera incontriamo, quanti? Adesso c'è il contributo per le morosità incolpevoli ed è già qualcosa, ma anche qui bisogna pensare a qualcosa di più strutturale. Ma uno può, io vengo da Milano, se una famiglia dalle nostre fa la richiesta di casa popolare, puoi averne davanti 22.000? Eh, l'hai fatta la richiesta, ma lascia lì. Ma bisognerà ritornare a pensare in grande. Poi viviamo in città che sono fatte di abitanti senza case, ma anche di case senza abitanti. Proviamo a mettere insieme queste cose qua. Qualcuno ci pensa, fate quello che volete, ma qualcuno ci deve pensare. Un'ultima cosa, il tema dell'immigrazione. Io vivo con 30 ragazzi minori stranieri non accompagnati, che hanno fatto i viaggi della speranza a 12 anni, a 13 anni. Non facciamo sparire dal dibattito questo tema. I rifugiati che vengono oggi nei nostri paesi, ancora a Cremona, credo ieri si è montata una tendopoli per accoglierli, il diritto d'asilo. Noi non dobbiamo tornare indietro di un millimetro su queste cose. Dobbiamo tenere la barra dritta su queste cose qui. Non facciamolo sparire questo tema. E le ultime due cose che dico sono queste. Ho partecipato 15 giorni fa a Milano in un circolo PD, in un circolo PD ha promosso un incontro sul tema della povertà nel suo quartiere, a sud della città di Milano. È stata una mattinata interessante di urla e grida, insulti, è stata una cosa... Ma bisogna stare lì dentro. Bisogna starci lì dentro. Noi, per quello che facciamo di ricompattare, riunire, rimettere insieme i ragionamenti, il compito di un partito è quello di starci in quei luoghi lì, con l'umiltà e la pazienza. Perché in quei luoghi lì si sta con umiltà e pazienza. Ma bisogna starci. E se veniamo indietro da quei posti lì, quel luogo lì che noi non occupiamo più, e vabbè, lo occuperà chi regala le dentiere a metà prezzo, o altre cose di questo tipo qui, ma dentro lì bisogna stare a portare alto il ragionamento. Bisogna stare a condividere. Un ultimo pezzo. Sentivo prima Gianni parlare della importanza di ricostruire un partito, una formazione. Anche qui io vado al Cardinal Martini che a Milano aveva inventato le scuole per la formazione e l'impegno socio-politico. E noi giovani che ci andavamo ci spiegava una cosa. Che se quella della politica rimane una vocazione, una professione, chiamatela come volete, per la quale non c'è formazione, i risultati saranno di conseguenza. Grazie. Grazie. Grazie.